È da molti che non vinciamo le partite, giochiamo bene, facciamo tutto bene, però poi qualcosa non va e alla fine rimaniamo sempre con un pugno di mosche in mano. Va bene, dai, speriamo che questo 2000... Sì, siamo dissamato la squadra e sicuramente ci dobbiamo dare da fare, i ragazzi sono stati tutti bene e vogliono fare bene, sono ragazzi che sono disposti al sacrificio e per la stella faranno di tutto per farla ritornare a spendere, insomma, poche parole, noi faremo di tutto per cercare in questo campionato di centrare il primo. A posto, grazie infinite, felice Natale e che il 2022 sia biancostellato sempre, d'accordo? Grazie a tutti voi, a tutta Galatina e a tutti i tifosi. Io faccio un saluto, un augurio grossissimo al profondo del cuore dove sta a battere la stella. Grazie, grazie ancora, ciao.